La prima bozza del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile arrivata in commissione consigliare ha portato ad incentrare la discussione sulla nuova disponibilità dei posti auto a servizio del centro storico di Fenza. Era inevitabile ed altronde fosse questo il primo punto della discussione. L'aumento della zona traffico limitato è un obiettivo da tempo conosciuto anche se la prima bozza del Pums sembra riuscire a scontentare un po' tutti. I traguardi fissati dalla regione Emilia Romagna non sono infatti raggiunti da questa prima bozza. Invece del 100% di zona traffico limitato in centro storico si arriverà al 75%. Invece del 20% di pedonalizzazione si raggiungerà il 15%. Un piano quindi al di sotto delle aspettative in un certo senso. Nell'altro però ora che la perdita dei posti auto e di libertà di movimento dei mezzi a motori diventa tangibile iniziano le preoccupazioni di chi in centro lavora. La richiesta è già stata avanzata dalle forze politiche di opposizione. A fronte della perdita di posti auto è necessario studiare una serie di parcheggi alternative e un ampliamento dei posti auto per i fruitori del centro. Al momento però associazioni di categorie e associazioni ambientaliste preferiscono non commentare le indiscrezioni riguardanti il Pums, soprattutto le pedonalizzazioni di piazza San Francesco, piazza Sant'Agostino e metà piazza delle Erbe. Il confronto infatti è appena iniziato. Il Pums a fine percorso inevitabilmente sarà molto diverso dalla prima bozza da cui si è partiti per la discussione in commissione consigliare. Il comune poi dal canto suo in questi mesi ha accettato un confronto diretto con tutte le parti in causa, prendendo in considerazione le quasi 300 osservazioni arrivate dall'esterno. Non è escluso poi si possa procedere per gradi, iniziare a chiudere man mano il centro alle auto per poi arrivare ai traguardi fissati dalla regione. Su piazza delle Erbe poi sarà molto importante il confronto. La decisione infatti di pedonalizzare la porzione di piazza tra via Mare Scalchi e il Palazzo del Podestà non è così scontata. Attualmente sono in corso discussioni legate prima di tutto al mercato ambulante che verrebbe completamente stravolto. Diverse le possibilità che dovranno essere prese in considerazione. Gli ambulanti da tempo hanno chiesto di tornare, passata la pandemia, alla conformazione originale del mercato. In esame al momento è anche una terza ipotesi, la chiusura della piazza fino all'altezza del punto vendita OVS e compara ulteriori ragionamenti da intraprendere per il mercato ambulante. Di fronte alla sodata perdita di posti auto in centro da più parti poi è arrivata la richiesta di non considerare i parcheggi scambiatori come la soluzione al problema. Al momento sono due i parcheggi scambiatori della città, Piazza d'Armi e il CONA dalla Filanda, entrambi serviti dalle navette elettriche. Un aumento dei parcheggi scambiatori richiederebbe anche un aumento delle navette per il centro con un esborso economico non indifferente per le casse comunali. La logica poi del parcheggio scambiatore, è stato fatto notare al comune, funziona in presenza di grandi eventi. Nella quotidianità in molti hanno espresso dubbi sulla possibilità che un fruttore del centro prenda l'auto, si fermi al parcheggio scambiatore e poi si serva della navetta per raggiungere il centro. Dubbi che però rientrano all'interno anche della richiesta di cambiamento di comportamenti che da tempo avanzano le istituzioni e le associazioni ambientaliste di fronte alla crisi climatica.